mi servono dubbietti paesone mi servono dubbietti paesone non si capirono non me ne frega niente capite miliardi e miliardi dubbietti paesone si capirono fatte capire lo rifacciamo il 12 aprile lo rifacciamo la rifacciamo la relica non ti preoccupare non mi amazzare con le buone maniere si ottiene tutto martedì 12 aprile ore 21